Non è servito molto tempo a Dusan Vlahovic per entrare nella storia della Champions League, appena 32 secondi. Il gol più veloce di un debuttante in Champions League? Il record di Andreas Müller fissato a 37 secondi battuto? No, non proprio, visto che Evgen Konoplyanka del Siviglia nel 2015 entrò in campo all'84esimo e segnò appena 15 secondi dopo nel suo debutto. Anche se in realtà va detto per l'Ucraino, si trattava dell'esordio nella fase finale della competizione, visto che l'anno prima con la maglia del Nipro aveva giocato due partite ai preliminari.